I difensori hanno degli imputati, dei clienti da difendere, ma in questo processo hanno svolto una funzione promiscua, una funzione di difensori dei loro imputati e di accusatori di un imputato assente, ma Rudy è stato processato qui dai difensori dei due odierni co-imputati di questo soggetto, il quale è stato accusato di praticamente di tutto senza la minima possibilità qui di difendersi perché è imputato altrove. Grazie 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 Grazie